L'enciclica Laudato Si è il messaggio di oggi. Qual è il contenuto più importante, principale di questo messaggio di Papa Francesco? Papa Francesco vuole lanciare una sfida, perché è vero che da un punto di vista ecologico noi ci troviamo in una situazione drammatica. In effetti noi vediamo che il nostro pianeta Terra, questa casa che dovrebbe essere abitabile, in verità sta andando sempre più a depauperarsi, a impoverirsi. Allora credo che la chiave di lettura di questa enciclica stupenda sia quella che ruota attorno ad un termine, ecologia integrale, dove però chiaramente c'è un rapporto tra uomo e natura, alla luce però del fatto che nella misura in cui noi recuperiamo l'uomo, nella sua dimensione soprattutto di impoverimento sempre più drammatico, che questo aspetto positivo avrebbe ricadute splendide sul recupero della natura e quindi il recupero della Terra. Noi abbiamo un tema stabilito dalla sede nazionale, quest'anno il tema era il sinodo della famiglia, la donna nella chiesa e nella società. La famiglia chiaramente è un tema molto ampio e nell'enciclica il Papa lancia messaggi forti per l'unione familiare, messaggi forti non soltanto di salvaguardia dell'ambiente ma anche sul lavoro, sull'economia, sull'immigrazione e quindi noi organizziamo, programmiamo degli incontri sull'invito del tema centrale che il nostro convegno nazionale ci propone. Il laudato sì è importante per noi perché ci offre la possibilità di comprendere meglio la visione della chiesa e la visione dei credenti nel rapporto con la casa comune che è il creato. I convegni si ispirano alla figura della beata Maria Cristina di Savoia e sono sorti in Italia nel 1937. Difatti come faceva Maria Cristina faceva tanta beneficenza, anche in convegni fanno pure beneficenza. Si organizzano delle tombole, si organizzano dei burrachi di beneficenza, a volte si danno in beneficenza al seminario oppure si fanno queste adozioni alle parrocchie, si fanno anche queste adozioni a distanza, si dà qualcosa durante il periodo delle feste natalizie a famiglie bisognose. Insomma ognuno secondo la propria realtà cerca di destinare qualcosa, di fare qualche opera di bene.